Aperto il bando per la sezione dei volontari del Servizio Civile Universale 2022, la sezione territoriale dell'OICI di Caltanissetta invita i giovani di età, compresa tra i 18 e i 29 anni, a candidarsi per la selezione di volontari del Servizio Civile Universale, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili, per la selezione di operatori volontari da avviare al Servizio Civile proprio al nuovo anno, nel 2022. Come Sara, giovane psicologa, che sta facendo questa esperienza a l'OICI? Ho cominciato l'esperienza di volontaria a luglio 2021 e attualmente ricopro ancora questo ruolo. Sicuramente le giornate sono scandite da tutte le attività che l'OICI organizza e mi sento decisamente più utile per la comunità dei nostri soci e mi sento anche molto più vicina al mondo della disabilità visiva. La consiglierei assolutamente di provarci perché è una bellissima esperienza edificante e consente anche a chi ha un primo approccio con il mondo del lavoro di instradarsi sotto questo punto di vista. Come sottolinea Alessandro Mosca, presidente dell'OICI Onlus Aps di Caltanissetta, fare questa esperienza è una crescita sociale e culturale, è un bagaglio di valore. Per partecipare ci vorrà lo speed e si potrà accedere al sito del Servizio Civile. Grazie. Grazie.